Ora è stata presentata stasera la bozza riguardo al mercato, come l'ha trovata? Una ottima proposta, ma sinceramente c'è da lavorare, è un semplice motivo perché si sta cercando di togliere proprio dalla gestione del comune il mercato, quindi ci sarà poi una società terza che sarà interessata a quell'area per gestirla al meglio possibile. Quindi c'è convergenza anche da parte dei concessionari? C'è convergenza e sicuramente venerdì stipuleremo un atto che metterà ad accordo sia il comune che i gestori del mercato. Che poi dovrà essere ratificato in consiglio comunale? Sicuramente.